buongiorno buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video di grattini allora oggi grattiamo un bel numerissimi e ricordando che il gioco non c'è la salute causa dipendenza patologica quindi non giocate allora io gratto tutti i premi prima mi piace mi piace vedere cosa si nasconde allora ecco qua questo è il quadro allora andiamo scopriamo se becchiamo qualcosa allora 86 86 86 86 non c'è non c'è 73 qua 38 38 25 58 58 non c'è non c'è nemmeno 18 qua e basta 70 qua e basta 79 qua 5 euro forse chissà 64 64 niente 65 55 45 nessuno 24 ground non c'è neanche questo qua e meri svolti andiamo a vedere non sono gli 89 ho visto 20 non c'è 40 non c'è l'ultimo 43 che non c'è niente da fare ragazzi via alla prossima ciao ciao